La gerbera gialla, fiore simbolo della resistenza e della lotta alla mafia, germoglierà nei terreni confiscati all'Andrangheta. È il progetto promosso dall'Associazione Antimafia Riferimenti, protagonisti gli studenti dell'Istituto Piria di Rosarno, che ieri mattina hanno raggiunto il feudo dei Mancuso per partecipare al seminario informativo sulla legge che prevede la riconversione dei beni confiscati alla mafia, un'attività che si inserisce in un più ampio percorso di legalità. Tra qualche settimana gli studenti dell'Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura realizzeranno infatti all'interno dell'immobile riconvertito in Centro Studi Antimafia di Limbadi un micro laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli. La scuola è partner in questo progetto che vedrà i nostri studenti protagonisti attivi. Gli studenti del Piria non soltanto del settore liceo, quindi il settore liceo seguirà i seminari e i seminari residenziali. Gli studenti del professionale per l'agricoltura invece si occuperanno di realizzare all'interno di questi centri dei micro laboratori di trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti agroalimentari per immettere immediatamente i prodotti sul mercato. Si creeranno delle micro imprese, delle cooperative di giovani e di immigrati. Credo che questo sia fondamentale per dare una svolta decisiva, cioè i beni confiscati vanno riutilizzati e i giovani si devono appropriare. quelle che sono le possibilità e le opportunità che questi beni confiscati possono offrire. Cristina Iannuzzi per la Cinews 24.